Musica Mi scusi lei non c'era bisogno di scrivere cosa scrive a fare non c'era bisogno basto io per il saluto iniziare e la mia intro nuovissima ragazzi dimmi un po' com'è buonasera a tutti e benvenuti bentornati sul minecraft report sembra un po' scarso spoilerati sotto il nome del mio collaboratore d'oggi e quindi vai Jolteon scelgo te vai e di fuori eccolo qua buongiorno io oggi sono quello come si chiama black battler black battler il suo pokemon fedele compagno d'avventure di Jolteon molto piacere molto piacere signor Jolteon comunque oggi per il minecraft report piacere piacere siamo in un nuovissimo server che poi io ero in F1 quindi non ho neanche letto quello che ho scritto fino adesso scusa l'ho fatto apposta comunque oggi siamo in un nuovissimo server vorrei dire due cosine prima di incominciare prima cosa voglio sapere la nuova intro se vi piace e se la volete che la rimetto buon natale vabbè ma buon natale a parte che non so quando uscirà sto video dovrebbe essere ancora sotto le feste quindi ha fatto pena dire buon natale ma sinceramente non sono sicuro e seconda cosa se voi volete mandarmi un indirizzo buona befana dov'è la befana? dov'è? dov'è la befana? dov'è? ah si è vero eh insomma se volete mandarmi su facebook eh anche lì se andate a vedere la pagina facebook se volete mandarmi un indirizzo non scrivetemelo nei commenti perchè vi tocca toglierlo perchè è spam quindi inviatemelo in privato o su youtube o sulla pagina facebook e io direi che guardi babbo natale a te non ti porta niente eh eh oh 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 buona pasqua comunque siamo in questo bellissimo server prima cosa cosa dobbiamo fare cosa che server è come si capisce buon natale allora c'è una chest ci vuole una key per fare ah c'è il kit kit natale e mi dà una chiave che io apro la chest con la chiave oh c'è il rolling cosa mi dà? cosa mi dà? cosa mi dà? cosa mi dà? eh cosa mi dà? cosa mi dà? cosa dà? devo cliccare mi ha dato l'abito da babbo natale che mi dà protezione a due come sono bellino l'abito da babbo natale a te cosa ti ha dato? blocchi di lana che cosa ci devi fare con i blocchi di lana? schifo ah e beh sei un jolteon se hai il potere dell'elettricità cosa vuoi di più? è la madonna il kit epic riceverai un kit una key epic ogni 32 anni è la madonna voglio stare sul sicuro eccola qui epic key ah un altro un'altra key questo server è pieno di chiavi normal key quante chiavi? ah qua le dobbiamo usare ah ok ok no ancora due palle però se tutte le volte c'è sempre qua dal giro della ruota ah cosa vinco stavolta? dai qualcosa di più buono dell'abito da babbo natale un arco eeeh un arco che culo un arco cosa hai vinto? lingotto di ferro bello bello compliment buon 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 natale 10 lingotti di ferro meglio qualcosa di buono? qualcosa di buono? oh una una verga che unbreaking 3 perché l'unbreaking vabbè sharpness 3 e beh fa male fa male anche tu l'hai vinta che culo comunque eeeh warp crate ah ok di qua si va i warp qui c'è un'altra cosa cos'è? ah se te voti ti arriva una una key per aprire queste cose ok 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 la prima cosa voglio capirlo warp in costruzione ah ok ci sono le cose gratis dove sono le cose gratis? oh vai avanti senza di me dove sono le cose gratis? ah qui c'è una roba da vendere vabbè un classico ossidiana e robe varie vabbè quindi non c'è un cazzo comunque eeeh esci dov'è che è andato professor giocatore ah è là ok 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 dove c'è là? free ah beh se c'è proprio la scritta free oh beh legno infinito spade non ho una spada perché fa figo eeeh niente cose aspetta warp ok ci sono i warp c'è proprio scritta ok ok ci sono i warp warp miner warneter warp arcurisi vediamo warp miner poi non lagga mi piace non lagga eeeh evento miner ah ok è un evento cioè tocca aspettare che entri qualcuno c'è ma eh ho capito non possiamo sempre aspettare che entri qualcuno mettete il plug-in se no cosa c'è da fare qui diventa piangere allora parkour parkour e asi eccolo qua il parkour e asi e la madonna il parkour e asi è alla faccia delle asi è un po' più complicato di asi è qua eh eh primo salto già cado mi piace aspetta opla dai dai ce la facciamo ce la facciamo io scommetto che ce la no siamo negati al parkour qua vedi se te sei più salterino di me ecco appunto non è l'acqua che ti uccide è la caduta questo è l'isi eh voglio vedere oh è entrato qualcuno è entrato qualcuno dai siamo i ducai salutiamo cioè aspetta no buonasera no perché mi sgamano quindi ciao caio non so neanche scrivere ciao ma quanto so impedire vabbè lo capisce dai mo lo capisce lo sa che siamo bimbi minchi allora opla siamo capo admin si 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 dice che è lui il capo admin ah si è vero non l'ho letto che imbecile allora iniziamo a chiedere delle domande già iniziamo per illustrare lo staff bel server cosa si fa qua dentro a capire che server è perché se è solo un gran parkour sono tre parkour non c'è un cazzo allora fazioni ah ok come ci si arriva al fazioni scegliendo i warp qual è quello giusto c'è c'è il ne ah proviamo ad andare ah qui ci sono anche i rank aspetta ci sono anche i rank ok se è un server fazioni in teoria ci dovrebbe essere anche i rank no non da piangere piano non ci sono i rank per te ok bello supera 30 blocchi potrei costruire bello quindi vabbè facciamoci una casa andiamo perché là c'è un monte spianato vabbè è bello fa pandanno vabbè ti attacca venga giù da lì lei dobbiamo costruirci una casa venga giù su forza e coraggio andiamo andiamo all'avventura su facciamoci la casa iniziamo a costruirla facciamo tutto bello là c'è un albero volante che cos'è sto coso perché c'è un albero che vola vabbè mi piace come ingrescio e vabbè facciamo facciamo che noi siamo dei player e dobbiamo testare il tutto no quindi prendiamo il legno facciamo la carta di table ci facciamo oh piano oh piano ma non ho le hack ma chi cato per per antik knockback non ho le hack so manco come si mettono le hack perché la roba mia fate chi ti inizia vediamo un po' chi ti sono ah che ci mancava solo quello chi ti inizia ok il resto dell'armatura beh ci sta ci sta il resto dell'armatura ok eh niente non c'è keep inventory a parte il fatto che col cappellino sembri agli occhi neri sembri monco cioè hai una faccia che non si può guardare vabbè comunque io non ho voglia di fare sto pvp te hai voglia di fare pvp? hai voglia di fare pvp? mi sa che hai voglia di fare pvp? si c'è idea non 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 vieni qui fatti figlio no no le frecce no no volevo dietro fare pvp uffa eh non dietro quello no ah non il bastone cazzo tenevo ok ok ma di nuovo ma che cazzo di nuovo ma perchè? guarda lago zero aspetta prova a colpirti vediamo se ti butta fuori vedi ti butta fuori con un colpo ti butta fuori ma che cavolo aspetta basta un colpo e ti butta fuori per per hack te seriamente vieni qua a prendere la tua roba da per terra va là sinceramente warp farm sono abbastanza interessato quindi proviamo quello warp farm che carino guarda se vieni qua che bello dai ci sta per guadagnarti qualche soldo vieni qui e ti diverti a ammazzare i mob ti butti e ci guadagni guadagnato ho 60 dollari ho solo 60 dollari lei quanto ha guadagnato più di me spero per me sono abbastanza male non sono molto contento di questo quanto ha guadagnato lei questo flash money mi dica quanto ha guadagnato 100 e perchè sei per più di me non è mica giusto questa cosa io inizio a chiamare la bocconi allora inizio ad essere curioso andiamo a vedere bello è anche qui tutto bello innevato sento questo server mi sto che buon odore di pulito ah che buon odore di pulito parkour hard non è che abbia quel grand hard però oddio a me i blocchi invisibili e vabbè che 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 cavolo questo non è hard questo è stronzo e vabbè ok ce l'ho fatto ok 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 con calma con calma molta calma un po' indietro e la cabare ok ma se arrivi in cima cosa ti da ok c'è il ghiaccio infami infami c'hanno ma hanno messo anche il ghiaccio sotto che bastardi sotto le strappi il ghiaccio è una bastardata questa non è un parkour è una bastardata vien da piante sinceramente vuoi fare sto parkour dimmelo sinceramente vuoi fare ok spawn ok sti ghiaccio e vabbè parkour leggendary sì certo 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 sì 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 certo 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 cioè ci sta che il server abbia il parkour ma se è un fazione deve avere per esempio i rank i rank in fazione ci stanno un casino un casino che possono avere anche dei nomi scemi come rank jolteon 4 parkour per un server è vero 4 parkour per un server non è un come si dice un minigiochi il server è un fazioni non ci stanno bene ragazzi allora sinceramente il server non è brutto a me sinceramente mi piace abbastanza secondo ecco signor jolteon dicca il suo ma sto parere per le uo allora voto per io devo ricordarmi i voti io i voti non me li ricordo mai mai qual è il primo voto che bisogna dare non me lo ricordo te lo giuro non me lo ricordo qual era qual era aspetta ah le costruzioni le costruzioni che bastardo per le costruzioni io gli darei anche un 6 un 6 dai un 6-7 glielo do tranquillamente perché sono semplici ma sono carine poi è bello è abbastanza aggiornato anche perché siamo in tema natalizio ci sono gli alberi anche nella sala dello staff ci sono le cose natalizie è bello mi è piaciuto è molto carino 7 di tutto mi dispiace a sufficienza gli darò un 4 perché non è che ogni pugno sia al warp e al warp fazioni comunque nel mondo gli do un pugno mi chicca sempre fuori due palle avete visto anche voi le hack non le ho su l'avete visto cazzo è un videoprova e dai lo devono sistemare per quello infatti non è che voglio bocciarla la cosa però un 4 io lo do la insufficienza ci sta facendo un 4 e mezzo sinceramente gli do il 4 pazienza dello staff pazienza dello staff io gli do anche un 8 perché sono stati gentili educati non hanno rotto il cazzo hanno cercato di pubblicizzarlo come si deve uno c'era va bene dai però già tanto se ce n'era uno su dai 7 facciamo 7 va là dai che io sono anche troppo generoso è vero bisogna essere cattivo di tanto facciamo 7 che suona meglio quindi niente per ultimo voto cioè il divertimento beh non è stato brutto più che altro dato che non serve fazioni quindi è basato 90% su pvp e ci sono 4 parkour non è che mi sia divertito chissà cosa quindi anche per questo si merita l'insufficienza con un bel 5 perché alla fine è vero sembra più un vanilla che un fazione cosa distingue un fazione da un fazione da soprattutto anche i rank i rank e comunque lotte tra fazioni probabilmente ci sarà il cioè il plugin delle fazioni vabbè ma non è solo quello l'importante perché ci deve essere il motivo perché la gente resti qua e il rank secondo me sarà una cosa essenziale quasi per un fazione quindi niente sinceramente questo server ragazzi mi è piaciuto mi è piaciuto ci sta a Natale siamo tutti un po' più buoni quindi niente ragazzi lasciate il palazzo sul video se non lo lasciarlo se non lo vi è piaciuto il video commentatelo condividetelo dovunque anche accesso mi raccomando niente e purtroppo per voi anche un po' per me perché volevo un server un po' più brutto ci siamo beccati un bel server che secondo me se si impegna questo è capace di essere un server molto carino e niente per il momento possiamo dire che è finita ancora a dire qualcosa il signor Jolteon ha bisogno anche di Vaporeon e gli altri suoi gemelli e non so dove ne ho mesci si cavi quel cappello che sembra che abbia gli occhi neri che io vedo le pupille le vedo sotto gli occhi fa quasi impressione ragazzi in teoria aperto che sposto il microfono l'avevo anche spostato avevo chiuso avevo chiuso il video ma vi faccio vedere quest'ultimo spezioncino guardate che figo la Jail con tutte le guardie in fila no ragazzi bello be lo bellissimo fai vedere le prigioni vabbè numero 3 Jail 3 è figo è bellissima come idea è semplice è bellissimo poi qualcosa no è bello è bello GG Grazie a tutti.